Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Mariana, buongiorno. Una volta era Mariana del covo della ladra. Si può finire ancora così, Mariana? Il covo, sì, si può ancora definire così, perché il covo si trasforma, ma rimane, resta, è solo che cambia, come tutte le cose cambiano. Bene, grazie mille, allora, e buongiorno anche a te, grazie di essere qui con noi. Beh, del covo ne abbiamo parlato spesso e volentieri, se ne parla tanto e continueremo, per fortuna parlarne, allora, meno male. Il covo della ladra era una... Lo è ancora fino a dicembre 2024. È una libreria in zona via Padova, giusto? Via Scutari. Via Scutari, ok, via Scutari, attraverso il bel paese Scutari, se volete andarci, sono stati in Albania l'anno scorso, in vacanza, comunque. Famoso, perché insomma, sono anni che lottate insieme a noi, come si dice in questi casi, no? Assolutamente, diciamo che noi abbiamo aperto il covo ormai sette anni fa, infatti il 25 di ottobre facciamo proprio sette anni di apertura. Sette anni fa in un quartiere dove le librerie non c'erano, perché era dieci anni prima, aveva chiuso l'ultimo presidio e quindi noi ci siamo detti, vabbè, io ci abito in via Padova. E quindi mi sono detta, perché devo vivere in un posto, in un quartiere senza librerie? Ho iniziato io, subito dopo sono arrivate anche altre librerie come la Noi di Via delle Leghe, Anarres di Via Crespo. Insomma, adesso non siamo più da sola, se così vogliamo dire. Siamo un po' tutti in difficoltà, ma perché penso che sia in difficoltà il nostro settore, quindi non è solamente una questione, anche se qualcuno la vuol far passare così, di stare al passo col mercato. È proprio una questione di settore e anche di città, che appunto io l'ho definita famelica qualche giorno fa, però è vero perché è una città dove di eventi ne accadono tantissimi e quanto vuoi che possa incidere la presentazione di un libro in una piccola libreria di quartiere. Bisogna lavorarci tanto, bisogna avere molta presenza e anche riuscirsi a costruire un'identità e una comunità di riferimento. Cosa che avete fatto tranquillamente, no, con difficoltà, molto probabilmente, con tanta fatica, ma che avete fatto però in questi anni, no? Quindi appunto quel discorso del chiude perché nessuno viene a comprare i libri da voi regge fino a un certo punto, cioè non sta in piedi. No, anche perché da noi i libri si sono sempre venduti e si continuano a vendere. Come sempre, il problema non sono le vendite, sono i costi di gestione, i costi di affitto, i costi di tasse, di tutto, che diventa sempre ogni anno un po' più complesso. E poi non ci dobbiamo dimenticare che lo stesso costo del libro aumenta e invece le disponibilità delle famiglie spesso diminuiscono. Io non lo dico perché faccio strane ricerche di settore o, che ne so, vado a fare studi di economia e commercio. Lo testo semplicemente tra i nostri lettori e appunto le nostre famiglie, perché noi siamo comunque una realtà che si rivolge alle famiglie del nostro quartiere. Abbiamo libri per bambini, libri per adulti. Prima, il sabato, venivano e compravano quattro libri in una famiglia di quattro persone. Adesso vengono e ne comprano uno barra due. E questo alla lunga fa la differenza. Ebbene, sì, immagino. E se qui potrebbe finire la notizia dicendo appunto addio al covo della ladra, invece qui si aprono le belle notizie. Perché in realtà sono nascoste dietro una notizia che potrebbe appunto farci piangere e invece ce n'è un'altra che ci farà piangere di gioia. Ma non ce la dici subito. Ce la dici dopo la prossima canzone perché voglio proprio capire appunto insomma questo covo chiude ma in realtà la ladra rimane lì mi sa perché non va molto distante. Allora ne parliamo subito dopo la prossima canzone in Maroon 5 con This Love alle 8 e 15 minuti Crystal Radio. Good morning Milano con Mariana, covo della ladra. Maroon 5, This Love, 8 e 18, Crystal Radio sempre qui con Good morning Milano, sempre qui con Mariana del covo della ladra. Ma che appunto ci stanno dicendo che a fine anno, quando è che chiudete? 27 dicembre. 27 dicembre, mega festa, mega party. Beh sì, decisamente. Ok, infatti non sembra, quindi prenotatevi per andare alla mega festa di chiusura del covo perché appunto poi in realtà si tira giù la serranda e dopo facciamo un countdown, va bene, un countdown e si ritira su perché in realtà diciamo che viene davanti ciò che c'è stato fino ad oggi di dietro diciamo, ok? Adesso spiegala meglio tu. Hai detto proprio nel modo corretto, è proprio così. Dal 15 di gennaio, giorno più, giorno meno, adesso dobbiamo ancora definire un po' di cose contabili, proprio cose burocratiche, il covo della ladra diventa la libreria dei Dobloni, che è la nostra casa editrice che ormai è viva da un annetto e mezzo, quasi due. Una casa editrice che è iniziata per scherzo, però alle volte le cose per scherzo diventano, proprio perché iniziano per scherzo diventano serie e quindi sta diventando molto seria, molto seria tanto che ci ha richiesto e ci richiede sempre più attenzione, sempre più impegno, una distribuzione maggiore, insomma cose un pochino più strutturate. Ed ecco allora perché dobbiamo salutare la ladra e il suo covo. Esatto, perché in realtà il covo diventa ancora più covo, perché diventa la redazione, la libreria dei Dobloni, che sono appunto il nostro marchio editoriale, chiamiamolo così. Casa editrice appunto, no? Che esiste ormai da un annetto e un poco più, che cosa edita però i Dobloni? Cosa fanno? Noi abbiamo iniziato due anni fa appunto con l'intento, e anche qui sottolineo il fatto che i Dobloni non nascono, perché io e i miei collaboratori ci siamo detti, ma sì dai non sappiamo cosa fare, facciamo la casa editrice. In realtà la casa editrice nasce proprio su richiesta dei nostri lettori. Hanno incominciato a chiederci dei titoli vintage, quindi di gialli agè, chiamiamoli così, per non dire vecchi, dei gialli vintage che non si trovavano più sugli scaffali. Allora noi abbiamo fatto una nostra piccola indagine da libraie, e ci siamo rese conto che molti autori come Augusto De Angelis, Matilde Serau, lentamente stavano scomparendo dalle nostre, e anche immotivatamente stavano scomparendo dai nostri scaffali. È vero che si pubblica tantissimo, che gli autori contemporanei sono molti, sono tanti, sono prolifici. Scrivono tantissimo, tra parentesi. Quando abbiamo avuto prova qua con Risolto Giallo, veramente c'è passato una marea di scrittori che scrivono tantissimo, a volte tornano perché in un anno hanno scritto già il secondo. Però noi ci siamo sempre, in un certo senso, freggiate del merito di andare a cercare le origini di tutti i gialli che noi oggi leggiamo. E quindi ci siamo dette, beh, insomma, stanno sparendo dagli scaffali, riportiamoceli noi. E quindi i dobloni nascono con solo una collana vintage. Però, insomma, non ci siamo fermati là. E adesso, insomma, immagino tanti dobloni nel forziere da poter far finalmente vedere a tutti quanti. Rimarrà sempre questa connotazione del gialli, oppure ormai andrete anche su altri lidi? Noi in questo momento abbiamo una collana dedicata al vintage, quindi al giallo. Abbiamo una collana di narrativa contemporanea, noir, quindi non esattamente e solamente gialla. E poi abbiamo altre due collane un po' particolari. Una legata al recupero delle fiabe nella loro prima, diciamo, stesura. Senza edulcorazioni, senza censure. Ah, ok. E che si chiama appunto le clessidre. Perché giriamo la clessidre e torniamo indietro nel tempo. E poi i cartesiani. E invece qui ci sono un pochino di... I cartesiani? Sì, i cartesiani. Cosa fanno i cartesiani? I cartesiani ci portano in rotte narrative diverse. Libri un po' scomodi. Libri che ci fanno riflettere sulla nostra contemporaneità, sia partendo dal passato, sia partendo dall'attuale. Bene, quindi le novità saranno tante e le potete vedere tutte dal 15 gennaio appunto. Nella nuova libreria di Elbroni, giusto? Esatto. Che è sempre lì però, nel senso... Sì, sì, non ci muoviamo. Non ci muoviamo. Lì, sta lì, cambiano l'insegna, ma rimangono lì e rimangono sempre l'ovanzi, meglio. Emy Winehouse, Back to Black. Lo devo dire sempre, quanto ci manchi Emy, quanto ci manchi. Non ci mancherà invece Mariana perché è qua con noi. E non ci mancherà il Codalana perché appunto abbiamo detto che quindi cambia, ma cambia pelle, ma rimane lì. Quindi siamo solo contenti. Prima Mariana hai detto una cosa, che appunto avete i gialli, ma poi avete i noir. Che differenza c'è tra il giallo e il noir? Molto semplice. Nel giallo le cose si risolvono e i cattivi vengono messi in galera. Invece nel noir non è sempre così, anzi. Ah, cioè quindi, non so, sto pensando, i soliti sospetti, quelle cose lì sono un po' che mi hanno in mente. Non mi ricordo neanche come finisce, devo dire la verità. Ma poi nel senso che non è detto che non c'è l'assassino a trovare. No, e spesso non ci sono neanche le forze dell'ordine e le forze dell'ordine non sono proprio esattamente così impeccabili, enteggerrime. Alle volte, insomma, si scava un po' nella fanghiglia, nel fondo più profondo, per citare con il futuro di un romanzo. Nel fondo? Nel fondo più profondo. Nel fondo più profondo, va bene, che trovate. Certo. Andate, fino a dicembre c'è, quindi andate, usatela visto che c'è. Andiamo con un po' di musica ancora, poi torniamo, due consigli veloci sugli acquisti e poi siamo qua. Ancora insieme a Mariana a parlare di libri, parlare della libreria I Dobloni che sta arrivando. Zucchero con vedo nero e invece noi ci vediamo benissimo, ci vediamo noir un po', un po' giallo e tutto quello che potete trovare nella libreria I Dobloni. Allora, adesso vabbè, decci un po' anche altre, così, spoilerci un po' cosa succederà in questa libreria dal 15 di gennaio. Più o meno. No, ufficialmente sarà il 15 di gennaio. O poi magari già al 10 sei lì, come se dici in questi casi. Esatto. Ho idea che tu dal 27 al 15 non vai da nessuna parte, mi sa tanto. Mi sa proprio di sì. Beh, avremo un po' di cose burocratiche da fare, poi ci sono dei tempi tecnici, diciamo, di passaggio da una codice a te con l'altro. Vedi che ho imparato benissimo in questi mesi, sto imparando tantissimo. L'insegna quanto vi sta facendo? No. Semplice, il cambio di insegna è semplice. Sì, perché rimarrà quella in realtà. Ah, ecco perché. Rimarrà quella, ci sarà solo una vetrofania sulla vetrina. Adesso stiamo progettando insieme al nostro designer, che è mio marito in realtà. Salutiamo il designer marito. Esatto. Stiamo progettando gli interni in modo tale che logicamente sia in grado di accogliere sia la redazione, sia la libreria vera e propria. Però diciamo... Ho imparato una cosa nuova, Maria Natalprendesi, che nella casa editrice si chiama comunque redazione. Sì, è una redazione. Dentro ci sono... Diverse persone, diverse funzioni, diciamo. Si impara sempre qualcosa. Pensavo che la redazione fosse solo la nostra giornalista, che invece no, anche le case editrici hanno la redazione. Poi rimane in redazione anche per un altro semplice motivo, perché tutta la nostra parte online, diciamo, i nostri canali di comunicazione, i nostri podcast, i nostri video su YouTube, i nostri appuntamenti con le recensioni, quelle rimarranno sempre attive. Ok. Abbiamo uno spazio eventi sul retro del negozio e abbiamo uno spazio eventi di quasi 180 metri quadri. Ricorda qualche caso in affitto, 20 metri quadri con 80 metri quadri di balcone, cioè quelle cose lì, quelle cose sono a Milano. Noi non abbiamo il balcone, però abbiamo un bellissimo spazio eventi, un bellissimo salotto. Un bel salotto. Esatto, dove le persone sono accolte, possono incontrare gli autori, c'è il nostro gruppo di lettura, il Dito della Luna, che si rincontra ogni fine mese appunto nel nostro spazio eventi. Insomma, accadono molte cose, anche semplicemente stare lì per leggere. Queste cose non cambieranno, nel senso che tutti gli eventi che facciamo adesso, gli incontri per i bambini, gli incontri per gli adulti, continueremo a farli anche come case editrice. E devo anche dire che come case editrice riusciremo a fare anche qualcosina di più, nel senso che non saremo più legati alle logiche del presento il libro che sono sicura di vendere, perché di base non è che proprio sarò connessa e sarò interessata a vendere il libro. A me interesserà creare un momento d'incontro tra i nostri lettori e il pubblico e il nostro quartiere e autori o gruppi di autori o panel, insomma cose di questo tipo. Hai detto la parola magica, quartiere. Quanto la storia del Covo sarebbe potuta nascere in un altro quartiere o quanto invece solo in quel quartiere? Non te lo so dire, nel senso che noi siamo fortemente radicati sul territorio anche perché abbiamo aperto sette anni fa con un crowdfunding. E il nostro territorio ci ha aiutato ad aprire in questo modo. Il nostro territorio è un territorio che noi abbiamo accolto in tutte le sue difficoltà, in tutti i suoi lati positivi, perché è inutile raccontarcelo, ci sono cose belle e cose brutte come in tutti i quartieri di Milano. È un territorio molto eterogeneo, è un quartiere molto eterogeneo e cerchiamo di accogliere sempre qualsiasi cultura e tutte le culture. Abbiamo instaurato rapporti con associazioni, con altri commercianti. Insomma, siamo nati e anche in funzione di questo. Non saprei dire se questa formula poi può essere replicata in altri luoghi, però sicuramente può essere replicato questo desiderio di aprirsi invece che di rimanere solo librai. Perché è facile dire, so fare il mio lavoro, so vendere i libri, però in realtà il nostro lavoro non è solo vendere i libri. Allora, l'avete capito alla fine, cioè quella che è nata come una brutta notizia triste sui giornali, soprattutto si è letta così, in realtà non è quello, è tutt'altro. Di questo voglio parlarne con te dopo la prossima canzone, però, insomma. Sui giornali sembrava, come si dice, morto e stromorto, e invece no. I ladri non muoiono mai. Ecco, e non sappiamo se questa è una minaccia o una speranza. Andiamo avanti, fra Quintale, Marco Mengoni e Jamie Tates. E allora, questi sono Jamie Tates, Marco Mengoni e Fra Quintale che ci fanno fatto il piacere di cantare, va bene, grazie mille, vi ringrazio tanto. Va bene così, Beatrice, se li presento così, ok? Va bene, lo sapete che non è che devo apprezzare per forza tutto, da contratto non devo apprezzare tutto quello che mandiamo in onda, va bene? Oh, lo dico, invece apprezzo molto il lavoro che sta facendo Mariana perché davvero questa nuova veste del Corvo della Ladra che diventerà, rimarrà in realtà, luogo di grande cultura, luogo di eventi in quel quartiere, ma anche appunto la casa editrice I Dobloni che insomma viene nel front space invece che nel backstage. Dicevo, sui giornali la notizia ha girato tanto, su Repubblica, su Corriere, su Milano Today, chiunque parli di Milano ha parlato di te, ma è qui con noi. Scusate questo, flexo, flexo, flexo un po' anch'io, ecco. In realtà però è passata solo la prima parte la notizia, come ti sei spiegata questa cosa? Io immagino già i messaggi che ti sono arrivati proprio di condoglianze, di cordoglio, no, se vuoi ci siamo, ho già l'ossigeno pronto, no? Immagino cose del genere. Esattamente, diciamo che da sabato c'è stata una specie di pletora di persone, anche i nostri carissimi lettori, anche chi lo sapeva già, perché logicamente per qualcuno è stato un fulmine al cialsereno, per altri invece che sono i nostri ladruncoli, come li chiamiamo noi, che sono i più affezionati, che ci sono sempre, che collaborano anche con le nostre attività, loro lo sapevano già. Eppure tutti che mi dicevano, ma quindi, ma quindi. Per me è stato molto difficile gestire questa cosa. Un po' me l'aspettavo, perché logicamente di quello che abbiamo scritto, diciamo della lettera aperta che abbiamo fatto ai nostri lettori, giustamente la notizia più importante era quella che noi abbiamo messo anche come prima, cioè il fatto che il covo stia chiudendo di fatto così come lo abbiamo aperto e così come siamo stati abituati a conoscerlo. Dall'altro lato però mi è un po' spiaciuto che invece che cogliere i lati positivi di questa notizia, si siano colti solo i lati negativi, ma il sensazionalismo è arte, è parte della comunicazione, per cui va bene così. Avremo tempo e modo per far vedere cosa succederà veramente nel nostro piccolo spazio, piccolo barra grande spazio, e insomma per dialogare al massimo con chi veramente ci segue, perché poi di questo si tratta, chi ci segue lo sa. È l'incontro soprattutto, da quanto ho capito. Cioè voi qui viviamo tutti ovviamente online, voi siete su qualsiasi social, ci siete, siete molto attivi anche sui social, ma la cosa interessante, in realtà la vera parte bella, interessante è tutta quella offline, è tutta quella che facciamo dal vivo. Neanche forse proprio il libro in sé quando l'incontro a volte, spero. Assolutamente, infatti uno dei motivi per cui abbiamo deciso di portare la redazione, quindi la casa editrice, in strada, su strada, come se fosse effettivamente un negozio, e anche perché non ci spiacerebbe che i nostri lettori e il nostro quartiere partecipasse veramente alla nostra vita. Ora non dico che li invitiamo alle nostre riunioni redazionali, perché insomma diventerebbe un po' difficile. Mio cugino ha scritto un libro molto interessante, Mariana, ma vuoi leggere? Mancano qualche H, però so che siete bravi pure a metterle, cioè il concetto di rischio è quello poi. No, però sicuramente il fatto di entrare un pochino più dentro i meccanismi, conoscere in anteprima anche gli autori che pubblicheremo, o anche semplicemente uno dei miei sogni è quello di fare le colazioni il sabato mattina, ora le facciamo in libreria, da gennaio piano piano incomincieremo a farle in casa editrice, quindi sarà un approccio diverso, ma il risultato è il medesimo, c'è lo stare insieme, l'incontrarsi e come Grimaldello, come punto d'incontro, un libro tra noi e i lettori, insomma. E allora ancora una canzone, poi torniamo a salutarci, perché dobbiamo anche dare tutte le coordinate, perché sì, ci sono sui social, ma adesso prendete carta e penna che ci seguiamo tutto quanto, è su come seguire tutta questa evoluzione. Been Like Dears, Megan 390 Pain alle 8.50, stiamo per chiudere, ma prima dobbiamo sapere tutte le novità che ci saranno prossime avventure, così in questo caso, nel covo, perché anche c'è una nuova pubblicazione di Dobloni poi, giusto? Esatto, il 16 di ottobre usciamo con La teoria dello spillo, un noir ambientato a Milano, un noir cattivo, sporco, crudele, che non è assolutamente politicamente corretto, perché noi le cose politicamente corrette non ci piacciono. Ci annoiano. Esatto, e dalle 19.30 sarà con noi anche il suo autore, quindi un modo per conoscere Michele Brusati si chiama, un modo per conoscere i Dobloni, la nostra collana di vintage, scusate, di libri vivi, nel senso di autori contemporanei. Che non è scontato quando si pubblica un libro, effettivamente. Di autori contemporanei, e quindi insomma magari un invito anche per cominciare a bazzicare quello che sarà la casa editrice. A casa editrice, appunto. Poi si può seguire tutto quanto, dove? Avete un sito? Avete dei social? Siamo dovunque. Allora il sito è ladradillibri.com, quello della libreria, rimarrà sempre attivo e diventerà fondamentalmente un magazine dedicato al mondo dei libri e della cultura editoriale. Poi i Dobloni li si trovano su covodelleladra.it, non andiamo molto lontani, sono quasi tutti uguali questi siti, e poi ci trovate su YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dovunque. Soprattutto, e soprattutto, insomma, li trovate e vi assicuro, non è che c'è Mariana che fa i balletti su TikTok, ma non perché non sarebbe, siccome anche Ingrado è molto brava, ma perché ci dimostra come in realtà tutti i social, usati nella giusta maniera e per comunicare qualcosa che abbia un senso, alla fine vanno bene. Quindi su TikTok puoi tranquillamente comunicare di libri, parlare di casa editrice, senza per forza doverti mettere a fare i balletti. Lo dico anche alla mia redazione che continua a volermi a fare i balletti a me, quindi almeno evitiamo questa cosa, insomma era un uso privato di mezzo pubblico in questo caso. Mariana, grazie. Grazie a te, grazie a voi, grazie per questo spazio che avete concesso, diciamo, alla nostra realtà, che si parla di libri, non sono molto alla moda, però insomma è sempre meglio continuare a parlarne, insomma. Se torna il vinile il libro non morirà mai, io dico sempre questo, no? Speriamo. Sì, 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 giusta speranza, ed è anche appunto, sono contento anche di avere un po' ribaltato la notizia che è uscita sui giornali, insomma, tutti a piangere, tutti a già vedere i necrologi, cose del genere, e mamma mia, mamma santissima, invece no, invece è una bella notizia, è qualcosa, anzi diciamo che, oh, possiamo dire, è nato un figlio che adesso camminerà con le sue gambe, no? Esatto. Va all'università, come si dice in questi casi, quindi prende e va a fare il fuorisede, quindi lascia mamma e va avanti, quindi grazie Mariana, complimenti per il lavoro, salutaci tutta la tua squadra. Grazie mille, sarà fatto. E noi, e noi, e noi cosa facciamo? Beh, lo sapete cosa facciamo, quando ci avviciniamo alla fine della trasmissione non è che c'è qualcosa da fare, non è che ci inventiamo chissà cosa, c'è semplicemente da mandare la nostra sigla e quindi al nostro 3, 1, 2, 3, anzi al nostro 1, come volete, no dai, sigla!